Questo 3D Denari invita a una riflessione profonda nei prossimi sette giorni perché è importante renderci conto che è vero che noi siamo un tutto ma a volte siamo un tutto inserito in un tutto e allora questo rimanda al concetto di ingranaggio è solo quando ti accorgi di essere un ingranaggio che puoi mettere in moto una macchina ancora più grande rispetto a ciò che potresti fare da solo ecco, da singola rotellina potresti fare un 10% del lavoro ma quando collabori con gli altri allora quel tuo muoverti produce diversi movimenti e questo ha un impatto più significativo sul mondo circostante o sui tuoi progetti intraprendere un progetto da solo appunto può richiedere un grande dispendio energetico e invece è nella collaborazione che a volte si può trovare una sorta di effetto butterfly io do il mio, tu dai il tuo, un'altra persona darà qualcos'altro ora questo concetto è di una banalità disarmante ma a volte bisogna anche renderci conto che tanti, troppi di noi hanno una difficoltà incredibile a collaborare, delegare oppure semplicemente aprirsi a nuove idee questo può derivare dal fatto che sono persone che giocano in difesa sono persone molto individualiste oppure che credono che la perfezione passi solo da quello che fanno il mio consiglio, guardando questo 3D Denari è invece quello di riscoprire il gioco di squadra cioè sono parte di un ingranaggio posso creare una sinergia che mi porterà a raggiungere a tagliare un traguardo più grande rispetto a quello che potrei fare da solo ecco perché se queste energie ti risuonano ti consiglio di lavorare sulla domanda campione come posso lavorare con gli altri al fine di collaborare con loro e quindi raggiungere un risultato degno di nota grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti